Interviene il consigliere regionale di Sinistra Italiana Liberi e Uguali, Mino Borracino. Corsi di formazione a cassi integrati a zero ore ancora fermi. Il settore della formazione professionale ha sempre grossi problemi gestionali. I corsi di formazione erogati dalla Regione Puglia a favore dei cassi integrati a zero ore sono stati concepiti come un'occasione di accrescimento delle competenze dei soggetti svantaggiati per favorire una loro più semplice ricollocazione sul mercato del lavoro, ma soprattutto per dare una boccata d'ossigeno alle tante famiglie costrette a vivere in condizione di precarietà economica. A distanza di diversi mesi dal termine dei corsi, la maggior parte di loro non ha ricevuto ancora l'indennità oraria maturata. Ciò a causa dei ritardi degli uffici regionali della formazione professionale, deputati all'erogazione delle somme spettanti agli enti di formazione regionali che pure subiscono enormi danni da questi continui ritardi. Gli stessi lavoratori, buona parte dei quali sono cassi integrati ILVA, sono intervenuti per tramite delle proprie sigle sindacali con comunicato stampa e richieste di incontro all'assessore Leo che non si è mai degnato di dare alcuna risposta. Conclude così Borracino, incapacità politica dell'assessore e gestionale della dirigenza. Ci chiediamo cosa aspetti il presidente Emiliano a prendere provvedimenti.